E' un pallone tra i pali, Everton, Dexaira, Borsato e Buoaventura. Dall'altra parte Rossano che risponde con Sapia, Russo, Dell'Andrea. Andiamo a verificare gli ultimi due elementi del quintetto. Dovrebbero essere Sartori e il numero 9 Cervino. Subito in attacco alla nostra squadra, Dexaira, parola al centro, palla in rete! E' subito festa, con Marco, il Boa, Buoaventura, l'assistente di Dexaira. E' un tocco facile, sotto porta, del Boa, il giocatore che quando è in campo morde e fa male. Gol numero 4. Everton, per Borsato, Buono, il pallone per Boa! E' un 2-0! Toppetta per il Boa! Marco, Velleno, Buoaventura, sull'assistente di Borsato. Una scugliaiata che ha sorpreso la difesa dell'Odissea. E per la Carlisparcogianco era il doppio, con Marco Buoaventura. Gol numero 5 della sua stagione. Ottima, soprattutto la giocata di Borsato. I primi 20 minuti, 3-2-1, vamos Carlisparcogianco! Sapigno ha rientrato in campo, ha subito servito. Cercando di gestire la partita. Vediamo Borsato, va in costo-coste, pallone per Teixeira. Gioca sul sinistro! Il Ranger Tex! E la mette! E' un gol spettacolare per Rodrigo Teixeira. E' il gol che ci porta sul 3-0, il suo quinto stagionale, come Buoaventura. E dunque, dopo un minuto e dodici secondi, siamo sul 3-0. Una ripartenza letale da parte di Rodrigo Teixeira, avviata da Borsato. Il rientro e il calcio violentissimo con il sinistro. E palla nel sacco. Il pallone indietro per Ippoliti. Poi Borsato. Borsato si gira! Borsato! E' il gol della tassa! Il numero 16! In questa sua stagione! Luis Borsato! Cuori per noi! E' gol per lui! Col numero 16 in stagione, 4-0. Si è girato benissimo. Borsato! E l'ha messa alle spalle di Sapia. Un gol da stregazione. Pallone sul sinistro. Intercetto di Borsato. E poi Buoaventura che lo aiuta Ruben. Lo scambio tra i due. Poi Buoaventura perde il pallone. Attenzione Sartori. Pallone al centro! E il gol è 4-1. Siglato da Benenati. Un'ingenità da parte nostra nell'uscita. E dunque... Si è salvato in qualche maniera all'odissea. Ancora Paolinho per Ippoliti. Il sinistro, la direzione, Tebella! Sottoporta! E la rete! Il gol è 5-1 ancora di Rodrigo. Il Ranger Tex. Texeira! E per fortuna allontaniamo i pericoli calabresi. Azione insistita della Callis Forco Gianco. La prima conclusione di Tebella deviata. Sottopallo. Scervino all'indietro per Sapigno. 3 minuti e 40. Sapigno dentro! Gran parola di Giannone! Un po' la traversa! Un po' il gol! Secondo il direttore di gara la palla è entrata. Ha segnato... Per non portare a fase questa vittoria. Sapigno. Sapigno con il destro. Tebella prova a bruciarlo con l'accelerazione dopo aver rispinto il suo tiro. Sapigno va a contrasto ma Tebella! La mette! E sono sei! L'ultimo samurai. Terzo gol stagionale. Chiude l'incontro. Anche se era già indirizzato chiaramente a nostro favore. Un'accelerazione bruciante. con Sapigno che andava nettamente a una marcia diversa. 40 anni e non sentirli. Simone Debella dimostra così la sua fisicità. E segna il gol del 6 a 2. Al diciannovesimo minuto. Sapigno va alla conclusione. Ippoliti la alza in corner. Se Salinis rimarrà in parità. Intendeva servire Fusari. Ora il destro di Cervino. Ancora contrasto con Debella. Una roccia, Debella. Serve Teixeira. Guarda il portiere Teixeira. E lo fulmina per il 7 a 2. e la sua tripletta personale. La prima in stagione. Rodrigo Teixeira. Il Ranger Teixeira. Chiude così i conti. 7 a 2. Al Palaevento. Ultimi secondi di gioco. E arriva anche il fisco finale. Allora. Al Palaeventi di Rossiano Calabro. La Carli Sparcogiacco ha vinto 7 a 2. Sul di 6 a 2. Conquista. La final eight matematica di Coppola.